Amici e amici di Super J, buongiorno, ben ritrovati a questa nuova puntata di Di Prima Mattina, la nostra rassegna stampa, lunedì 1 luglio 2024, siamo pronti a darvi il buon inizio di settimana, andremo a leggere i principali argomenti sia sui quotidiani nazionali che sui quotidiani regionali. Ringraziando Maurizio Valeriani per quanto riguarda il coordinamento in regia, cominciamo proprio con le prime pagine dei quotidiani nazionali che danno ampio risalto alle votazioni politiche in Francia. Quindi cominciamo con il Corriere della Sera che infatti intitola Francia all'avanzata della destra, con Bardellà che conta su quasi il 34%, commenta Sarò il premier di tutti, il partito che governa non va oltre il 22,1%, il fronte Melenchon che supera il 28%, Le Pen punta alla maggioranza assoluta, Macron che invoca un blocco repubblicano, la sinistra al secondo posto. Ci sono anche le proiezioni di questo primo turno, sappiamo insomma che in Francia ci sono più turni, quindi diciamo questo primo tempo in un certo senso parlando in linguaggio sportivo va all'estrema destra di Le Pen, ci sono anche gli approfondimenti, la metamorfosi di un paese. Vediamo ancora il presidente trionfi e caduta ai limiti del leader solitario, la strategia del capo di NFP, una tiepida desistenza, intervista anche a Tajani, Unione Europea, sì ai conservatori. Si parla anche di maltempo, frane, nubi fragi e paesi isolati in Val d'Aosta e Piemonte, trappola di acqua e fango per Cogne e Cervinia. Vediamo adesso il caso poi, diciamo della politica interna soprattutto di quanto era accaduto dell'inchiesta di Fanpage per gioventù nazionale verso tre espulsioni, frasi antisemite, dieci militanti nel mirino di Fratelli d'Italia. Questa è la prima pagina appunto del quotidiano Il Corriere della Sera, adesso invece andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica, anche qui Repubblica intitola appunto una scossa per l'Unione Europea, quindi sempre riguardo le elezioni attuali in Francia. Vince Le Pen, la Francia è divisa, l'estrema destra si impone con il 34%, ma non ha ancora la maggioranza assoluta dei seggi. Saranno decisivi i ballottaggi tra sette giorni, Macron al 22%, il fronte popolare della sinistra al 29% che siglano l'accordo sulla desistenza e sono sicuri di poter prevalere. Orban intanto fonda a Strasburgo i patrioti sovranisti e Meloni, anche in virtù di questo primo turno in Francia, teme l'offensiva di Salvini. Il commento poi largine dell'Europa appunto riguardo questa emergenza democratica, ma Roma e Parigi non sono uguali. Ancora altri argomenti, anche qui il maltempo in Val d'Aosta, cogne isolata dal maltempo, frane e torrenti in piena. Le imminenti elezioni negli Stati Uniti, Casa Bianca, la moglie Jill chiede a Biden di non rinunciare appunto alla corsa da Presidente degli Stati Uniti. Antisemitismo se le inchieste sono un interesse del pubblico. Si torna anche qui a parlare appunto dell'inchiesta di fanpage su gioventù nazionale. Poi altri argomenti, un romanzo russo, vedete la fine di Lenin l'ultima notte del capo. Si parla anche degli europei azzurri prigionieri degli errori del calcio italiano a Palermo. Parti abusivo sull'isola delle femmine. Ancora in ambito nazionale vediamo rapidamente la prima pagina della stampa di Torino che in questo caso anche artisticamente evoca una tappa del ciclismo. Infatti andiamo a vedere di fatto non ci sono argomenti o meglio appunto sono all'interno della stampa. Questa però è la prima pagina tutta dedicata al Grand Tour Piemonte. Oggi arrivo di tappa appunto a Torino dopo 58 anni per quanto riguarda il Tour de France. Domani la Grand Boucle che riparte da Pinerolo e appunto anche qui tutti gli altri argomenti. Una festa che non finisce mai, quell'accordo con Prudhomme firmato sul Tovagliolo. Il sindaco di Torino portiamo la città al centro del mondo con i grandi eventi sulle strade del campionissimo. Quindi si omaggia appunto questo arrivo di tappa a Torino. Passiamo rapidamente al messaggero quindi sempre in ambito nazionale. Anche qui si torna a parlare appunto delle elezioni, del primo turno di elezioni in Francia. Francia a destra intitola il messaggero appello di Macron. Le Pen e Bardellà vincono il primo turno. Ora i ballottaggi. Immobilitiamo gli elettori per la maggioranza assoluta. Balzo delle sinistre. La mossa del Presidente sconfitto per patti di desistenza nei seggi contesi. Blocco repubblicano. Questo appunto l'appello di Macron. L'editoriale. L'eliseo schiacciato appunto dal nuovo bipolarismo. C'è forte rischio appunto che la Francia diventi appunto di fatto uno stato bipolare con il Presidente della Repubblica e il Primo Ministro profondamente differenti a livello politico ma appunto staremo a vedere nel turno successivo. Si parla anche delle elezioni imminenti negli Stati Uniti. Crepe tra i democratici. Vertice in famiglia per decidere il futuro del Presidente uscente Biden. L'intervista a Buongiorno che dichiara pronti a fare la riforma dei reati della PA. Anche qui il calcio in primo piano. L'Italia dopo il disastro europeo. Niente dimissioni. Scontro tra il Presidente della FIGC e la politica. Gravina. Avanti con spalletti. Ma dai club arrivano quattro tutor. Ancora altri argomenti. Le evacuazioni di massa. E anche qui si torna appunto sul maltempo. Le alluvioni che travolgono Piemonte e Val d'Aosta. Passiamo adesso invece alle prime pagine odierne del quotidiano regionale Il Centro. Quindi vediamo quali sono i principali argomenti partendo dall'edizione principale ovvero l'edizione di Pescara. Si torna appunto a parlare dell'omicidio che è accaduto. L'omicidio di Christopher. Gli assassini nel mirino su internet diffusi sui social. I nomi dei due diciassettenni che sono stati arrestati per l'omicidio di Christopher. Il taglio alto. Lo sport con appunto la nazionale italiana. Dopo la debacle degli europei. Spalletti resto sulla panchina dell'Italia. Dopo la disfatta con la Svizzera. Gravina sicura. Avanti con il progetto. Il l'emergenza a Castronio. Qui siamo a Teramo. Armi in carcere. I detenuti pronti allo scontro con gli agenti. Mosciano. Anche qui la cronaca. Deruba anziani per cento volte. Sconterà 29 anni. Editoria poi in Abruzzo. Distribuzione dei giornali con i bus. Tua partita aperta. La sanità sempre nella nostra regione. Liste d'attesa. D'amico. Serve chiarezza sulle prenotazioni. Ancora la cronaca. Bimba rischia di annegare in piscina. Paura a scanno. La piccola di nove anni si tuffa dopo pranzo. È stata salvata da un turista medico. Vediamo anche lo sport con il calcio di Serie C. Il mercato del Pescara. Pescara su Moretti e Corvi. Prime mosse in attesa di Navarra. Masala ceduto al Giuliano. Ancora altri argomenti. Pescara, mare, strato di mucillagine. Niente rischi per la salute. A Città Sant'Angelo. Rifiuti. Salta l'affare da 30 milioni. Ed è scontro. Passiamo adesso all'edizione di Teramo. Siamo sempre sul quotidiano Il Centro. E qui si parla in primissimo piano del nuovo ospedale a Teramo che prende appunto il titolo principale della prima pagina. L'ospedale nascerà a Villa Mosca. Gatti risponde alla richiesta di chiarimenti del sindaco e fuga i dubbi. Vediamo ancora altri argomenti. In questo caso dobbiamo andare direttamente nel taglio basso. Paura a Montorio Alvomano. Riparte il rogo. In 200 fuori casa le abitazioni di Viale degli Abruzzi sgomberate per molte ore. Alba Adriatica. Auto contro Monopattino. Resta ferito un ventenne. Si parla anche di sport. Con il Giulianova Calcio c'è l'ipotesi Mosconi in panchina. Continuiamo a vedere le prime pagine del quotidiano Il Centro. Passiamo all'edizione di Chieti, Lanciano e Vasto. In questo caso si parla appunto degli aumenti della Tari in consiglio a Chieti. Oggi in aula la tassa sui rifiuti. La riscossione porta al comune 12,5 milioni. Anche qui andiamo nel taglio basso con lo sport. Il Chieti che aspetta il patron Serra. In bilico l'iscrizione nel prossimo campionato di Serie D. Da mercoledì trattative con i calciatori. Via i pezzi migliori. Chieti Pescara più offerta all'università. Altri tre nuovi corsi di laurea. A Vasto usa violenza sulla moglie e adesso non può avvicinarsi. Chiudiamo adesso con l'edizione di L'Aquila Vezzano e Sulmona. Sempre appunto del quotidiano Il Centro. Anche qui la cronaca in primissimo piano. Una donna ferita da un colpo di pistola. È successo a Barisciano. Un incidente al poligono di tiro. Una 33enne marsicana è finita in ospedale. Vediamo poi. Muore a 59 anni. La gente pensa. Questura in lutto era originario di Tagliacozzo. L'inaugurazione poi ad Avezzano. Case per le donne maltrattate. Il procuratore che dichiara reati in aumento. Colpa anche della cocaina. Movida all'Aquila. Tavolinetti selvaggi. Si chiedono più controlli. Il calcio poi di Serie D con l'Aquila che pensa a Da Silva e Giampaolo per l'attacco. Entriamo adesso ancora di più nello specifico degli argomenti e torniamo sul quotidiano Il Messaggero. Vedendo appunto quanto accade, quanto viene raccontato per quanto concerne appunto i nostri quattro capoluoghi di provincia. Partendo da Pescara dove si torna appunto sull'efferato delitto di Thomas. Vedete qui le ultime ore insieme agli assassini nel deserto della città. Dall'incontro alle coltellate ricostruita attimo per attimo la domenica di sangue. Il branco si è mosso dal terminal bus dove c'erano troppi testimoni al parco. Via appunto la perizia sui telefonini a una settimana dall'omicidio, giorno di svolta per l'inchiesta. C'è poi l'emergenza, diciamo emergenza AFA 500, le chiamate al 118 nella notte di AFA, feste e malori. Folle e alcol le cause, il primo sabato di ferie mette sotto stress la macchina dei soccorsi. Si parla anche poi di Funambolica, il festival internazionale del nuovo circolo con l'omaggio a Pina Bausch. Andiamo adesso all'Aquila, la viabilità riapre via 20 settembre. Da oggi il doppio senso in anticipo di 17 giorni, conclusi lavori di messa in sicurezza e ripristino della fondamentale arteria. Ha rimosso il semaforo provvisorio che aveva causato disagi al traffico. La ditta ha finito l'installazione del guardrail, marrone scelto per integrarsi con l'ambiente. Ancora altri argomenti. Adesso la chiesa di San Pietro riapra al culto. Beatrice Sabatini dell'Associazione del Quarto Monimo esprime la speranza che se ne possa fruire in modo continuo. Il caso poi delle bimbe scomparse, la madre ha processo. Nel 2021 la sparizione delle due bambine di 6 e 12 anni aveva destato grande preoccupazione. L'accusa è quella di sottrazione di minori. Poi il Rotary Club dell'Aquila che legge Nicoletta Proietti come nuova presidente. Vediamo adesso la zona di Avezzano e Sulmona. La cronaca Scanno, una bambina rischia di annegare in piscina e ha caduto nell'hotel vicino al lago. Appena entrata in acqua, la piccola di 9 anni ha avuto un malore non riuscendo ad emergere. Subito assistita sul posto è intervenuto l'elisoccorso del 118 che l'ha trasportata all'ospedale di Pescara. Per fortuna è fuori pericolo. I consigli poi dell'esperto, il bagno dopo i pasti, miti e precauzioni. Pescasseroli, un mondo a parte, festa a sorpresa. Milani, Albanese, la Raffaele, al cinema. Ettore Scola per la vittoria del nastro d'argento. Appunto questo a Pescasseroli. Sul Monalite per il parcheggio, De Angelis migliora. Vediamo poi ad Avezzano. El Foundry, il ministro Urso, apre agli aiuti dopo i finanziamenti a Catania e Novara. Ad Avezzano, estorsione, interrogatorio di garanzia. Da tempo c'erano le richieste di soldi. La zona adesso di Chieti e provincia. Donne nel mirino. Stasera uccido pure te. Minaccia il figlio che difende la mamma. In tribunale il drammatico racconto di una moglie in balia di un marito violento. Il bambino intervenuto per interrompere. Un feroce pestaggio è rimasto contuso. Udienza centrale nel processo che vede imputato un cinquantenne per maltrattamenti e lesioni personali. Inaugurata poi anche la nuova sede per l'Arci. Segni particolari con la porta rossa. L'inchiesta poi bussetta. Confermate tutte le accuse. Il tunisino in carcere per terrorismo elogiava la Jihad sui social. Respinto dal riesame il ricorso dell'uomo residente a fresa grandinaria. La seduta poi con Tari. Vedete qui a Chieti il rischio di bollette pazze. Tempi stretti per la riscossione. Oggi in consiglio il regolamento in ballo. 97 mila euro da incassare entro dicembre. I dubbi dell'opposizione. La zona adesso di Teramo e provincia. Il caso a Mosciano Sant'Angelo. Furti 29 anni da scontare. Ladra seriale evita il carcere. Una rom di 60 anni. Già nonna ai domiciliari. E malata combatte con più patologie. Fogli di via anche a Pescara e Chieti. Fine della pena del 2042. Per più condanne. Vive appunto a Mosciano dove si trova ristretta a casa. Il giudice ha concesso sei mesi. Poi ci sarà una nuova valutazione. La cronaca con l'incendio appunto a Montorio. Il forte vento riattiva l'incendio a Montorio. Alvomano. I sequestri poi nel carcere di Teramo a Castronio. Coltelli e sassi. Sotto il biliardino detenuti preparavano gli scontri. Maxi perquisizione a Castronio dove gli agenti hanno trovato armi cellulari. e stupefacenti. A Silvi cade dal balcone ferito un 65enne. Ancora la cronaca in questo caso ad Alba Driatica. Schianto tra auto e monopattino. Grave in ospedale. Un ragazzo di 20 anni. Si parla poi a Teramo della sanità del nuovo Mazzini. D'Alberto parla di ritardi. Gatti che replica. La polemica è dopo anni di letargo. Apriamo adesso la pagina dedicata allo sport. Partendo dal calcio di Serie C. Pescara si fa avanti un fondo straniero. Ore decisive per il club. Si attende la risposta di Navarra per l'ingresso. Nel contempo Sebastiani è in contatto da giorni con alcuni intermediari francesi. Vediamo ancora altri dettagli. Nel frattempo è stata perfezionata la cessione di Michele Masala al Giuliano. Il waltzer poi delle panchine. Siamo sempre appunto nel discorso calcio. Vivarini al Frosinone. Due mister restano in Serie A. Si è conclusa appunto la querelle tra la Bursese e il Catanzaro. Gli allenamenti dei tanti ex. Si parla anche di volley. Tenaglia. Ecco Mennecozzi e Foresi scelto il Palasport. Si giocherà a vasto. La siecortona intanto ha ufficializzato il ritorno di Alessandro Di Tuglio. Sempre rimaniamo al calcio. In questo caso con la Serie C. Pineto in porta. Ecco Marone. In attacco è attesa l'ufficialità per Ferdinando del Sole. Mentre tra i pali arriva il giocatore del Gladiator in Serie D. Sempre in avanti attenzione rivolta a Giovanni Bruzzaniti che di proprietà del Crotone. Per Fabrizi c'è concorrenza. Mercato in uscita in Pol Foglia e Mercorelli. Interrogativo invece che riguarda Volpicelli. Calcio ancora di Serie D. Notaresco. Forcini verso la permanenza. In settimana arriverà la fumata bianca. In difesa per Giovanni Formiconi. Qualche problema per questioni familiari. Calcio ancora di Serie D. Teramo piace. Leoncini. Attacco. Sono diverse le piste. Capitano Speranza diventa club manager. Un ruolo invitante. Questo il suo commento. Ancora il calcio. Di Serie D. Chieti. Capitano Forgione. Più vicino all'Avezzano. Marsicani a un passo. Anche dall'attaccante puntoriere della Palmese. Sempre il mercato con il Sulmona che effetto ha un gran colpo. Ha acquistato Massarotti. Il centrocampista fresco vincitore appunto del campionato di eccellenza con il Teramo che andrà a giocare appunto con l'Ovidiana Sulmona. Vediamo adesso gli ultimi argomenti. Parliamo in questo caso di rugby. Gli azzurrini da oggi all'Aquila dopo aver ospitato nei giorni scorsi la prima squadra sarà la volta fino a giovedì dell'Italia Under 18 a Piazza Darmi. A loro si uniranno anche dieci atleti invitati sempre nati nel 2007 della Experience finalisti del campionato contro la Benetton. Intanto ai mondiali Under 20 l'Aquilano Lorenzo Casiglio ha giocato contro l'Irlanda. Chiudiamo infine con il podismo. La notturna pennese dominio africano al fotofinish primi Fundi e Nibubona. La coppia si è messa appunto alle spalle Stefano Massimi dell'Atletica Vomano. Questi appunto i vincitori della notturna pennese. Bene proprio tutto per quanto riguarda questa nostra odierna rassegna stampa. Adesso diamo la linea alle previsioni del tempo. Vi ricordiamo tra poco l'appuntamento in diretta alle ore 9 con una nuova puntata di A Colazione. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.